ma che è dal vecello alla dottorolo crudo e mangiato salsiccia di vitello ma ma questo non è maiale questo è vitello la sopra ragazzi non è costosa però non lo faccio vuoi mangiare a mangiare buono se vuoi mangiare il mercato ma io ho leccato non mangio il mercato e poi con la sbaglia stessa quattro e cinque anni è grosso il vetello ma ma crudo e mangiato buono e ciò mi ha fatto quasi mezza potete non dell'amblusca Siamo in offerta, vedete i spumanti dolci, ecco da presto, 1 e 3 anni, ogni tanto bisogna cambiare, la prossima volta che mi offrendo di nuovo sulla nuova pagina Facebook, non faccio niente, li blocco e faccio prima, e l'unica cosa è quella, poi stiamo andando anche bene, stiamo andando bene, c'erano 600 persone che mi guardavano, ma stiamo scherzando, che fanno in vita eh, ma parla parla che sono tutta riduzione ma è, io guarda, io ce la faccio più, scusatemi ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più ragazzi, scusatemi perché, no solamente, io vi regalo sempre questo rischio però, arrivato a questo punto, oltre che mi offendano, mi criticano, e quindi non ho detto niente di male, ho detto venite me lo direi in faccio, se avete il coraggio, e ma non c'è niente, boh! sono nervoso, sono nervoso, sono nervoso, no, sono nervoso, no, oggi sono nervoso. Grazie.